Ciao! Vuoi vedere un bel film sui viaggi nel tempo? Guarda qua. Time Crime, spero che si dica così. Passa come horror e invece non c'entra niente con l'horror. È una gran figata di film, un vero film sui viaggi nel tempo. Fatto veramente bene, spagnolo. Da vedere se ti capita di recuperarlo che è veramente veramente bello. Ciao ciao!